Oggi mi dispiace tanto, mi dispiace veramente tanto perché io nel video di ieri e anche stamattina avevo ribadito un concetto che secondo me difficilmente si sarebbe vinto oggi a Bologna Però non mi aspettavo questa roba qua perché mi aspettavo decisamente di peggio, mi aspettavo decisamente di peggio, io ero convinto che fosse scoppiata una sorta di bomba dentro allo spogliatoio, dentro all'Iventus e mi aspettavo una prestazione molto più in linea con quella di Monza piuttosto che quella di stasera Purtroppo stasera vincere questa partita sarebbe stato importantissimo perché la Lazio perde punti con l'Inter e l'Inter li rigodagna perché Roma e Milan si erano fermate con un pareggio che era il risultato migliore per noi in vista della corsa Champions Quindi era davvero necessario stasera portare a casa tre punti, così non è stato Nel primo tempo siamo sotto, secondo me meritatamente perché nel primo tempo non meritavi di essere sotto, assolutamente no È stata un primo tempo, una prima frazione piena zeppa di episodi per quanto mi riguarda e alla Juventus sono girati male al Bologna bene Ora parliamo per un secondo del discorso del rigore, io non ho ancora visto nessuna immagine di Danilo che tocca effettivamente Orsolini quindi non ho idea se c'è stato quel tocco oppure no Sono andati a vederla al VAR ma non al monito del VAR, al VAR hanno dato il rigore quindi probabilmente c'è un'immagine che io non ho visto Mi viene a pensare, c'è un'immagine che io non ho visto in cui Danilo tocca, ma non è tanto il discorso del tocco c'è, tocco non c'è, mi importa relativamente poco La cosa allucinante è che nel 2023 non funzioni lo schermo del VAR per un errore tecnico, questa è una roba che io non posso pensare che possa esistere Che è un discorso che va al di là, non voglio nemmeno stare qui a parlare dell'arbitraggio perché non c'entra niente l'arbitraggio Però il fatto che non funzioni un monitor nel 2023, una partita di Serie A, mi sembra una sorta di follia Quindi andiamo avanti e ci ritroviamo sotto così dopo dieci minuti dove la Juventus tra l'altro in dieci minuti inizia a pressare I primi dieci minuti la Juventus li gioca pressando, cosa che in questa ultima parte di stagione invece avevamo abbandonato completamente Non avevamo più visto, una sorta di pressing si era vista intorno a febbraio, poi tra marzo e aprile Completamente abbandonato La Juventus non segnava con un attaccante dall'1-0 all'Ellas Verona Gol di Ken, quindi dal 1 aprile al 30 aprile Però prima di arrivare al gol dell'attaccante ci sono state diverse occasioni non concretizzate dalla Juventus Ma soprattutto il rigore sbagliato dallo stesso Milik Che anche quello per me l'impatto avviene fuori dall'area Quindi come non ho visto nessun tocco di Danilo su Orsolini Per me non era calcio di rigore quello che ci hanno fischiato Forse sarebbe stato meglio così in realtà Perché per la bruttezza terrificante del rigore di Milik Era forse meglio una punizione Capita purtroppo di sbagliare un calcio di rigore Credo che quel rigore sia stato un po' la discrezione di quello che è il mood In questo momento della Juventus Di quello che probabilmente sono i limiti anche di questa squadra dal punto di vista mentale Credo che sia una fotografia, un'istantanea perfetta di quello che sta vivendo la squadra oggi Una squadra che ripeto non sa più vincere Una squadra che non sa più vincere Questa aprile è stata terrificante Veramente terrificante dal punto di vista dei risultati È stato terrificante Meno male che almeno la Juve si porta a casa una semifinale di Europa League Come se l'è portata a casa lo sappiamo bene In maniera un po' così Però meno male che almeno quella è arrivata Perché sarebbe stato tosto Mandare giù pure un'eliminazione dall'unica Coppa disponibile Non sfruttiamo questa occasione E nel secondo tempo non torniamo in campo bene Purtroppo perché nel secondo tempo Torniamo in campo con un atteggiamento che non mi è piaciuto Bassi a cercare di difendere Il gol di svantaggio non lo so Quindi mi era piaciuto molto più l'atteggiamento nel primo tempo E ripeto per me è inaspettato Perché mi aspettavo qualcosa di brutto E poi nel secondo tempo in qualche modo lo troviamo Quel gol dell'1-1 E lo troviamo dalla sinistra con uno spunto di healing Che è stato il vero e proprio cambio della partita Il cambio di ritmo Costi c'è ancora una volta una partita sotto tono Poi ne parleremo domani mattina Nelle pagelle healing ti ha dato un po' di sveglia Healing e su lei sicuramente ci hanno messo un po' di brio Un po' di freschezza Un po' di spenseratezza davvero Di quell'uscire dagli schemi Nei quali ormai invece siamo ingabbiati E per schemi non intendo schemi di calcio Ma il solito palla avanti Palla indietro Palla orizzontale E basta se non uno sfogo sulla sinistra Invece healing punta Sulle prove a puntare Sono giocatori sicuramente differenti Nel primo tempo c'era stata Una super parata di Skorupski Su Fagioli addirittura Invece questa volta per fortuna Il portiere polacco non può far niente Con Milik che nel primo tempo Trova un impatto importante del pallone Al volo Sbaglia il rigore Alla terza occasione invece la palla entra Tra l'altro credo che sia stato il primo tempo In cui abbiamo avuto più occasioni di tutto aprile Forse nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni Rispetto a tutto aprile È già questo un dire Perché Questo mese è stato veramente terrificante Terrificante E Milik finalmente Riesce ad impattare Correttamente E a trovare il gol dell'1-1 Poi in quel momento lì In quei 5-10 minuti successivi Al gol dell'1-1 C'è Un'ottima Juve Che in realtà aveva poi sofferto Nel finale del primo tempo Dove C'erano state due o tre occasioni Nel Bologna Invece lì C'è la Juve che Che prende in mano La partita Il momento della partita Ed è bravo poi Tiago Motta A cambiare A inserire un attaccante A tenere sulla squadra Riversamente E la Juve torna schiacciata Quindi è stata veramente Una partita secondo me Molto strana Una partita nella partita Una partita in cui È accaduto un po' di tutto E poi torna fuori appunto Tiago Motta Torna fuori il Bologna Di Tiago Motta Che Stasera mi è sembrata Una squadra Organizzata Al punto giusto Con un pressing feroce Ci ha dato molto fastidio Dal punto di vista del pressing Quindi Una squadra che Che sta Seguendo secondo me Molto bene i dettami Del mister Che aveva fatto secondo me Molto bene tra l'altro Anche alla Spezia Quindi è stato un po' Una follia Lasciarla andare Ma lì sappiamo che C'era stata un po' Un po' di roba Ma stiamo andando fuori i topic E poi due occasioni colossali Una del Bologna Cui Per fortuna Non riesce a fare Quello scavetto su Chesni Il giocatore del Bologna E pochi minuti dopo Una di Sule Il mio appello è Ovviamente Sembra una banalità dirlo Ma Non andiamo a crocefiggere Sule Per questa roba qui Cioè Mi sembra Quasi scontato Doverlo dire E lo devo dire È un momento brutto Sto qua per la Juve Già la Juve Che riesce a creare Delle occasioni Cosa che non l'avevamo Visto fare in quest'aprile È un passettino Minuscolo Che non può fare Una squadra A maggio Ne sono consapevole Nel mentre che ve lo dico Ma è un passettino È quando sei in crisi E vedi tutto nero Anche un passettino del genere Te lo devi portare a casa Portiamoci a casa Invece il fatto che Con l'ingresso di Linge Sule La Juve è stata ancora Qualcosa di diverso Rispetto al solito Piattume Il tifoso La Juve oggi Non può essere soddisfatto Non può essere contento Pareggia Bologna Non può essere soddisfatto Non può essere contento Però io credo anche Che sia davvero necessario Cercare di Capire il momento Un momento nel quale Nemmeno mi sarei aspettato Il pareggio Nemmeno mi sarei aspettato Il pareggio E capite bene Quanta angoscia E quanta negatività Ci vada In una frase del genere Perché La Juve che va a Bologna Ha bisogno di punti Champions Vincendo stasera va a seconda In una giornata di campionato In cui tutto si è messo Tra virgoletta A favore Di questo sorpasso Della Juve Ci amarezza Ci amarezza Nel dire che Che comunque Non l'abbiamo portata a casa Un'amarezza Incredibile E quindi Prendiamoci Prendiamoci questa cosa Prendiamoci Questo pareggio Prendiamoci Questo piccolo Piccolissimo passo in avanti Ricordandoci Che c'è ancora qualcosina Da giocare in Serie A Che sarà molto difficile Secondo me Arrivare nelle prime quattro A questo punto Sarà molto complicato Arrivare nelle prime quattro Proprio per il campo Perché Vedo che È difficile in questo momento Far punti E secondo me Sarà poi Difficile Arrivare A A giocarsi La finale Di Europa League Sono molto Abbattuto Sono molto abbattuto Quando vedi poi Che anche Se i ragazzi Ci mettono Quel po' Di impegno Quel po' Di atteggiamento Che sarebbe bastato Un piccolo atteggiamento In più A San Siro Per provare A Dici Hanno avuto Le occasioni Per vincerla Forse il pari È il risultato Più adatto Più giusto Forse sì Forse no Fatto sta Che è pareggio Che è uno a uno E sono molto Abbattuto Perché È un insieme Di sensazioni Che si scontrano Una con l'altra In questo momento E faccio fatica A capire Quale prevale Se La gioia Per il fatto Che la stagione Ormai è al termine L'angoscia Per i risultati E le prestazioni Che non arrivano Se la preoccupazione Per quello che sarà Questo finale di stagione Vediamo Un abbraccio